Tra Lumezzane e Gianna Erminio vince la noia, poche occasioni, pochi tiri in porta, poco di nulla. Un punto, quello conquistato sul campo dalla squadra di Maurizio Breghin, che a poco serve ai fini della classifica. I Valgobini gettano al vento l'opportunità di agganciare i rivali in classifica e cercare di sfruttare a proprio vantaggio il discorso degli scontri diretti. Una sfida che più di tutte ha messo in mostra la sterilità dell'attacco rosso-blu e i cubani De Paolo ancora una volta non hanno inciso, urge una punta di manovra per aiutare la squadra a crescere sotto il profilo del gioco. A fine gara il direttore sportivo Flavio Margotto ha annunciato che tenterà di colmare questa lacuna. La sfida del comunale ha davvero poco da raccontare. Nella prima mezz'ora Lumezzane si vede con un colpo di testa di De Paolo, alto da buona posizione. Nella ripresa le due squadre si affidano più ai calci piazzati che al gioco, ma senza esito. L'unica vera occasione da golla la costruisce comunque Lumezzane alla mezz'ora con potenza, che imbecca perfettamente a Limi, ma l'albanese spreca malamente da ottima posizione. Nel finale è invece Franchini a non trovare la giusta deviazione sotto porta su Astrid di Baldassine. Il Lumezzane recita così il mea culpa e guarda al mercato.